e bentornati nel nuovo episodio dedicato a The Witcher 2 allora dovevamo tornare da Sven e sconfiggere le tante Avet in arena e? Unico tra loro Soperto? Ahah Alla batalla Let's go get him Most gracious king, noble lords, men of arms Shortly in the arena you shall witness the famed Letton Davot Known also as the Butcher of Sidaris At whose side shall stand the Honorable Edwin, the Petal, Lissom. Opposing them are Sven of... Somewhere, and Geralt of Rivia, Witcher. May the gods favor the better men. Begin! Come back, come back. Aspetta un attimo, ho quattro talenti, attenzione, andiamo un po'. Andiamo un po' più avanti, c'è Vitalità, ok. Effetto critico, 10% sanguinamento, interessante. Degli effetti critici più 5% a carire anche questo. Uccisione istantanea. No, due punti. E poi prendiamo questo qua, sanguinamento. Indietro cosa abbiamo? Aspetta un attimo. Abbiamo questo. Geralt non subisce più il 200% dei danni dagli attacchi alle spalle. I danni dagli attacchi alle spalle, 100%. Ok, meglio di mezza. Alle spalle diciamo che per ora va bene così. I danni, questa l'ho già aumentata. Sblocca la capacità di infliggere danni a più avversari. Ci potrebbe stare. Quindi questo di Titan botto. Da più 25 a più 100, ok. E sono in dubbio. Contraattaccare i colpi dell'avversario. Distanza coperta e schifando in battaglia. Generazione del vigore. Reduzione del danno. Vigore speso per parare. E io farei... Farei... Allora... Faccio danni contro più avversari. Faccio danni contro più avversari. I danni da più 5 anni. E invece di fare questo, a questo punto faccio questo, faccio. Non ti preoccupare. Ti preoccupare. E' quella fulgata di te. E' un uomo ora! Il reno stesso farà le honore. Tu ero in una piccola, quando la lavoro vedi a tua madre 18 anni fa. Non ti cambiare. Vigore. Dice che potrei chiedere cosa che ti vogli. E le mie parole non più 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 che i nobili. Ti chiedi pagamento per aiutare me? C'è un uomo? Oh bravo What what's that got to do with the coins? Everyone wanted to thrash the black ones not play brother to them A group of officers hatched a plot the coins there mark I don't know who gathered the first group of plotters but the seed of the scheme fell on fertile soil And sprouted quickly then came Brenna and it all died down The plotters themselves lost their action though it seemed to be resurfaced recently Is Henselt dealing with Nilfgaard again? Who knows, but he's welcomed that shriveled old bat here and spends time in discussions with him. That plot, well, the lads just want to prevent the black ones from meddling in our affairs, not more. You know a lot. You got a coin? Ah, yeah, I'm old and know that he who gains power loses his heart. I'm past the age of taking the crown off one head and placing it on another, but my son still believes a monarch can be just. Why must you know if I have a coin? I can't say. And neither can you, father. An old soldier's word is no handful of hay with which to wipe your arse. I'll have no to do with this. Go to Madame Carl's brothel and ask for whistling Wendy. The Madame will take you to her tent and leave you alone. Wendy will ask what you wish. Tell her you want her smile to open the gates of paradise. Okay. Are we even? Yeah. Okay. And beware of Vincent Trot. He may be hiding with the conspirators. Dangerous mahan that one. Deathmull is looking for him. And if he finds him, we may all end up tasting the executioner's axe. That scoundrel falls into the sorcerer's hands. He'll give us all up to save his own skin. I'll be careful. Trot wears a magic suit of armor. He could prove a difficult foe. No. 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 Okay. No. 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 Okay. だから, I get tired. Okay. Posso vendere Io quanto ore in c'ho? 2000? Non lo so Per esempio Se io questo lo vorresti vendere Ehm Armi Ok Questo qua Armature Aspetta un attimo Inventario Pesanti di cuoio Ok quindi C sono questi I guanti lunghi di cuoio Contro quelli Erborista Comune ed epico Infatti questo qui Questo guante È decisamente migliore Niente L'armatura Lo stesso Pantaloni Mi tengo quelli che c'ho Ok lo stesso cosa qui Armi a distanza Non mi interessa Armi non ne ho Ok Vieni qui Vendiamo Questo 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 e questo Perfetto Poi c'ho Poi Giacomo Commerciamo Vediamo Che cos'hai Pada D'acciaio Comune Non mi interessa È magico Non mi interessa Questo Non mi interessa Non mi interessa Niente Arrivederci Non mi interessa Grazie a tutti. 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 Ha cambiato la missione. Vediamo dove sono questi. Grazie a tutti. Yeah, yeah. Posso... Eh, trovate i nemici. Come se ci fossero i nemici. Ma sono là lontano. Ehm... Queen. Ehm... Ehm... Perfetto. E niente, questi colpi non li posso controllare. Facciamo. Facciamo. Attenzione. Attenzione. Ehm... 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 Eh, sti colpi non li posso Comunque visionare, vabbè Ci posso andare E salviamo Non mi frega più Devo sorpassare questa linea qui perché ci crepo Dietro No? Non avevo nessuno come te in nostra villaggio Avete visto dove sono andati? Sono andati da una parte, andiamo indietro Abbiamo già visto, là c'è il Necker Lì c'era un altro, aveva un altro a sinistra Ok E io questo qua, ancora non posso dispezionarlo C'è un salavere super facile Tempo E ancora non posso dispezionarli Ok 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 Stoccappon provisions. Seek and ye shall find, as the prophet Lebiota would say. He was a shepherd, had experience in seeking and finding. You know the good book? That's worthy of praise. Any discount on account of that? No. The prophet Lebiota encourages the giving of discounts. I don't recall that very much. Oral tradition. Hmm. And if your neighbor offers you a basket of apples for a ram, say you shall take but half a basket, for ten more neighbors will come. And five of them will offer you two baskets of apples for the ram, so many covet. An endless source of wisdom. Browse and choose. The chain. Niente, sempre są frutali, no, mi interese. life can be really small. I fought... Greetings. Welcome an opportunity when it comes. They say you run a traveling pawn shop. Heard you even have books. No song, no supper. Nobody mentioned you speak in Proverbs. A willful man must have his way. Ah, you're doing this on a bet. How long do you have to go on like this? Lost time is never again found. What happens if you lose the bet? Crows, do not pick crow's eyes. Good luck anyway. Fortune is easily found, but hard to keep. I wish you persistence then. Can I see your goods? I'm mainly interested in those books. Better to ask the way, than to go astray. Eh, turn in the other. What did you ask? We should have our scene. We can invest in things. No, I mean, I'm a fan of this, for sure. I'm a fan of this, for sure. Have you seen two of the sondations? Well, Witcher. Girls, Primerselves. How can I help you, Hanson? Eh, I wanted to talk. We're not strangers to the art of conversation, but it'll cost you just as much as a good plow. A gerata. I'm not going to pay for conversation. Well, how can I help you? I want to win. Sounds all right. Ask away then. What would you like to talk about? What would you like to talk about when you find a pencil? I'm a madame. What can I know about the king? I seem to remember that madames and innkeepers know everything. He used to come here to plow, to develop a camaraderie with the fighting men like, but that was just a phase. Most likely only plows the sweet smelling ladies now. I'm not going to be thinking of being here. Okay. You know how are you supposed to be here? I think it's... C'è un'altra vita, per dirvi che hai chiesto. È evidente che non è sufficiente per te farlo. In ogni modo, i figli sono qui abbastanza decentissima. Forse qualche volta. Tu mi preoccupi. Non ti capisci? Che cosa che si tratta? Oop. No, non mi interessano Non mi interessa Chiudiamo Peccare le smarrite, dove le trovo? Soldato Non posso parlarci Missioni No, mi è già Mentre qui ci vogliava per il campo Venne avvicinato da Zivik, che aveva già incontrato in precedenza L'uomo, che sa che era l'alto di trovare Alcuni soldati che erano scomparsi Oltre la palizzata Avendo offerto una ricomparsa per l'incarico Viste tenendo gli occhi aperti In cerchi di soldati, va bene Cospirazione Mi interessa, il simbolo del coraggio E poi faremo questo Le domande nel campo Adesso il campo è Telepalizzato, quindi non posso farlo al momento Ok Non mi interessa Ah, ecco Non mi interessa Asp, what would you like? Soldiers are scared shitless what with this battle approaching. They'd rather drink themselves. Not rearing to fight, are they? They might have been eager at first, but the longer we sit here. Ok, a Wendy. La fischia è tanta. Dov'è sta tipo? Now we make the camp. That's politics. What's it to us? We should have our say. Take an interest in things. Or it will turn out like the mill in Stiltum. The one that slipped from jailboat took over when he married the miller's widow. The two that slipped from jailboat took over when he was a man. He moved from jailboat to jailboat. He moved from jailboat to jailboat to jailboat. Petrario is going to do a lot of time. What is the third day? Jerka is doing some kind? I think he's doing some kind of thing. This is a big part of the prison. He's doing some kind in prison for jailboat. I think he's going to be having such problems. Grazie a tutti. 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 Ah, yeah. Grazie a tutti. Allora... Grazie a tutti. ... 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 ...... 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 good call Oh, ok Oh, ok Ok, penso fossero due cavalieri E invece niente Guarda qua Non è la strada giusta Per salire Andiamo Qui non ci sale Allora, noi arriviamo da qua Quindi per di qui Eccola la casa Facciamo così Salviamo E nel prossimo video riprendiamo da questa missione qui Le sorelle Grazie a tutti Allora, grazie a tutti